La Industrial AI Challenge è un format di Open Innovation di Hub Innovazione Trentino che consente alle imprese di collaborare con giovani talenti, professionisti, ricercatori, esperti di machine learning e di intelligenza artificiale con l'obiettivo di valorizzare grandi moli di dati che esistono in azienda al fine di sviluppare soluzioni di intelligenza artificiale per migliorare e ottimizzare processi e prodotti in azienda. La Industrial AI Challenge dura circa tre mesi durante i quali i team di cosiddetti solver competono per sviluppare le migliori soluzioni alle sfide di data science presentate dalle imprese. Gli output della Challenge sono molto tangibili e molto utili per le imprese e si tratta di prototipi, di algoritmi e modelli predittivi che l'impresa può utilizzare per andare ad ottimizzare dei processi chiave come per esempio la pianificazione della produzione, il controllo della qualità della produzione, ma anche la manutenzione e tutta l'operatività della logistica e delle forniture. Durante la Challenge i solver non sono soli, ma i team vengono supportati da start-up, spin-off universitari e della ricerca, ma anche ricercatori e docenti universitari che sono esperti in tecniche di machine learning e intelligenza artificiale. Questi esperti possono rimanere poi in contatto con le imprese al termine della Challenge per andare a maturare ulteriormente o industrializzare i prototipi di modelli predittivi che vengono prodotti e consegnati alle imprese al termine della Challenge.